Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi andiamo a revisionare questo gruppo angolare di trasmissione di un Audi RS3 ma è uguale identico a Volkswagen Golf, Audi Q3, Volkswagen Tigua, quindi il ripartitore di trazione anteriore dei veicoli quattro ruote motrici Audi Volkswagen che è questo, fatto così, quando è rumoroso che il cusciente è da cambiare si può revisionare, quindi non è necessario cambiare tutto il gruppo perché come vedete gli ingranaggi sono in perfette condizioni, vedete? Guardate, gli ingranaggi non hanno nulla, gli alberi sono perfetti. Cos'è che sono rovinati? Vedete questo cuscinetto che è tutto martellato? Vedete? Ecco, questi vanno cambiati, questo va cambiato, quindi andremo a sostituire i quattro cuscinetti che sono qua, tutto il kit di guarnizioni e ingranaggi e paraoli, scusate, non ingranaggi e andremo a revisionare il ripartitore di trazione. Quindi, se avete la necessità di andare a revisionare questo ripartitore di trazione o gruppo angolare, io lo chiamo quello il ripartitore di trazione ma è la stessa cosa, andremo a sostituire i cuscinetti, solo i cuscinetti e i paraoli. Quindi, io so che in Audi e Volkswagen la cifra di questo ripartitore di trazione in sostituzione è molto alta, non è necessario cambiare tutto perché la scatola di alluminio è perfettamente funzionante, l'albero è perfettamente funzionante, non ha nulla di rotta, gli ingranaggi sono perfettamente funzionanti, quindi non è proprio la necessità di andare a sostituire tutto il ripartitore completo, basta cambiare i cuscinetti. Per info e preventivi ci chiamate al numero 0141 96 92 14 o un'email a infochiocciolobiancaauto.it o un whatsapp al 345 060 86 8 Ciao a tutti, alla prossima!